Al via il prossimo 4 di marzo i lavori di demolizione delle parti pericolanti degli immobili dell'ex mercato ortofrutticolo che si trova in via Pisacane, zona Pescaiola. Verranno rimossi vetri, intonaci, solai. Verrà inoltre controllata da parte della polizia locale l'eventuale presenza di occupanti abusivi, già peraltro riscontrata in passato. I locali saranno anche sottoposti ad un intervento di pulizia e disinfezione dai detriti ai rifiuti con il coinvolgimento di Sei Toscana. La zona è ormai abbandonata da oltre 25 anni. Lungo la recensione dell'area gli uffici comunali hanno posto dei cartelli che allertano la popolazione residente dell'imminente inizio dell'intervento. I lavori dureranno presumibilmente una decina di giorni.